Tutti i migliori saltatori bianconeri in mezzo all'area di rigore. Palla dentro, il tiro, il palo è gol, la punizione assolutamente straordinaria di Manuel Giabbonato. Un gol fantastico, quello del giovane 19enne abruzzese bianconero. E allora la Juventus, al minuto numero 33, va in vantaggio con questa punizione straordinaria. Ed eccola qua, la standing ovation tanto attesa. Ciao ciao alla carriera inimitabile di Gary Neville. Gli applausi ovviamente alla standing ovation di tutto il pubblico di Old Trafford per questo simbolo assoluto per i Manchester United.